Brindisi a giugno si trasformerà nella capitale della vela italiana, un titolo che riflette l'impegno e la passione della città per il mare e per gli sport acquatici. Questo mese vedrà una serie di eventi veristici di rilievo tra cui la storica regata Brindisi-Corfu e il campionato italiano assoluto d'altura. La 38esima edizione della regata internazionale si terrà dal 9 all'11 giugno con partenza dal porto esterno di Brindisi. Questa competizione che copre 104 miglia fino all'isola di Corfu è un punto di riferimento per i velisti di tutto il mondo. Dal 24 al 29 giugno invece il capoluogo adriatico ospiterà il campionato italiano assoluto d'altura 2024 con 18 imbarcazioni già iscritte e l'evento promette di essere un appuntamento imperdibile per la comunità velistica. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per Brindisi per promuovere il turismo legato al mare e di rafforzare l'economia locale. L'ospitalità e la bellezza del litorale saranno in vetrina attirando appassionati e curiosi da ogni dove. L'attenzione della città verso gli sport nautici non è solo un evento stagionale ma parte di una strategia a lungo termine per valorizzare le sue risorse marine e costiere. Con eventi come questi Brindisi non solo celebra la sua storia marittima ma pone le basi per un futuro in cui il mare è protagonista dello sviluppo e del benessere del territorio.